A Catania i carabinieri hanno arrestato un mauriziano di 35 anni che ha tentato di strangolare la moglie, sempre nel capoluogo etneo, arrestati due corrieri della droga. Sensibilizzazione resta la parola chiave per dire no alla violenza sulle donne, a Paternò incontro sul tema con la giornalista RAI Adriana Pannitteri. Lezioni di rispetto e questo è il titolo dell'evento che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne si terrà a Paternò domenica 24 novembre alle ore 18 presso la biblioteca comunale Giovambattista Nicolosi. Scerbamento, rifacimento del manto stradale e pulizia dai rifiuti sono questi gli interventi che la Publi Servizi si appresta ad effettuare in alcune strade provinciali del territorio. Oggi sopra luogo con l'assessore Luigi Gulisano sulla Paternò Ragalna. Taglio del nastro questa mattina all'ex macello di Paternò per la mostra dell'artigianato organizzata dall'associazione Enosis in programma fino a lunedì prossimo. Il governo regionale ha stanziato 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri siciliani a beneficiarne anche quelli di Adrano e Biancavilla. Il teatro giovane Turi Pappalardo in collaborazione con il comune di Belpasso ha curato l'organizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo Il Marchese di Ruvolito associata a questo spettacolo un'importante iniziativa di solidarietà dal titolo 100 pupi per 100 bambini tra 100 sculture. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che questa sera apriamo parlando di Corona Canera. A Catania i carabinieri hanno arrestato un mauriziano di 35 anni che ha tentato di strangolare la moglie e sempre nelle capoluoghe etneo arrestati due corrieri della droga. I dettagli nel primo dei nostri servizi. L'unica colpa della moglie, una mauriziana di 33 anni, era stata quella di andarlo a cercare perché non tornava più a casa. Lui, marito della donna, un connazionale di 35 anni, sotto l'effetto dell'alcol, è andato in escandescenza e a rientro in casa ha sfasciato gli arredi e ha cercato di strangolare la moglie. Ti ammazzo, non ti voglio nella mia vita, pagherai per quello che hai fatto, le ha urlato l'uomo. È successo a Catania dove i carabinieri, allertati dai parenti, sono intervenuti e hanno arrestato il 35enne mauriziano. E sempre a Catania i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga di 29 e 51 anni, sorpresi con un incende carico di droga diretto alla Fossa dei Leoni. Termine utilizzato in gergo per indicare il viale Grimaldi. I due sono stati fermati all'interno del villaggio azzurro con un borsone nero all'interno del quale i militari dell'arma hanno scovato e sequestrato 60 kg di marijuana, che nel mercato illecito della droga avrebbe fruttato circa 70 mila euro. I due corrieri sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La prima sezione penale del Tribunale di Catania ha rinviato al prossimo 22 gennaio per un difetto di notifica la prima udienza del processo a otto persone scaturito dall'inchiesta della Procura sulla presunta bancarotta dell'Ali Group S.P.A., Società della Grande Distribuzione Alimentare. Tra gli imputati due commissari giudiziari dell'azienda e sei tra amministratori di fatto e di diritto di diverse società collegate. Gli illeciti sarebbero avvenuti dal 2005 alle 2013, quando l'Ali Group, pur formalmente gestita dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale, secondo la Procura di Catania operava nell'interesse della famiglia Scuto, avvantaggiando società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale. Sensibilizzazione resta la parola chiave per dire no alla violenza sulle donne. Appaternò incontro sulle tema con la giornalista RAI Adriana Panitteri. Il prossimo 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nonostante le tante denunce, la campagna mediatica per dire no alla violenza, i femminicidi purtroppo restano ad insanguinare le strade italiane da nord a sud. La sensibilizzazione resta l'arma più importante per parlare, soprattutto ai giovani, con questo scopo nei territori della provincia di Catania, e ad incontrare gli studenti è stata in questi giorni la giornalista RAI Adriana Panitteri, autrice del libro Cronaca di un delitto annunciato. Questa mattina ad accoglierla sono stati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Battista Nicolosi. Siamo alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e torniamo purtroppo a parlare di femminicidio, perché sono sempre 130-140 l'anno i femminicidi e soprattutto la violenza non è finita. Quindi per me andare nelle scuole significa fare educazione e prevenzione su un tema che ci deve tenere con la guardia alta. Dobbiamo imparare che non abbiamo a che fare con delitti passionali, la gelosia non può giustificare e che quindi siamo dinanzi a un problema di carattere culturale e a un impazzimento di natura psichica che può fare grandissimi danni. Ai ragazzi che messaggio in particolare lanci? Ai ragazzi più giovani lancio il messaggio intanto anche di educarsi tra di loro, il bullismo, il linguaggio sceno, l'ironia pesante anche verso le ragazze che poi sorridono in alcuni casi dinanzi a un linguaggio che è veramente scurrile è qualcosa che non deve essere accettato, perché forse, come ha detto bene la Cortellessi, in un famoso monologo per il Davide di Donatello, le parole hanno un peso, le parole sono pensiero, le parole sono azione, quindi forse bisogna fare già attenzione a come si usano le parole. Un'esperienza straordinaria, io veramente sono due anni e mezzo che vado nelle scuole, ci sono stati incontri, insomma anche come quello di oggi, in cui i ragazzi ti danno i disegni, fanno attività teatrale, alcuni hanno cantato, alcuni hanno ballato, quindi si sono impegnati sul tema, io mi porto dietro veramente questa grande riconoscenza mia nei loro riguardi per l'attenzione che mi hanno dedicato e spero che resti anche in loro un messaggio importante, quello del rispetto. E restando in tema lezioni di rispetto, è questo il titolo dell'evento che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne si terrà a Paternò domenica 24 novembre alle ore 18, presso i locali della biblioteca Giovambattista Nicolosi. Sentiamo. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Paternò domenica 24 novembre alle ore 18, presso i locali della biblioteca comunale Giovambattista Nicolosi, si terrà l'evento dal titolo Lezioni di rispetto. A curarne l'organizzazione, l'attrice e conduttrice Elisabetta Cannuli, in collaborazione con l'associazione di volontariato Rinascendo Onlus, Casa del Sollievo e Insieme per la Vita. L'evento sarà patrocinato dal comune di Paternò. Un evento per sensibilizzare soprattutto i giovani, infatti, lezioni di rispetto. Ci sarò io, in collaborazione con due associazioni attive nel territorio, Rinascendo con la Presidente Angela Leonardi e Insieme per la Vita con la Presidente Maria Grazia Felicioli. Vi aspettiamo a partire dall'ore 18 per questa serata di sensibilizzazione, ma anche di intrattenimento. Sempre intrattenimento a tema. Avremo vari artisti, abbiamo la scuola di danza, abbiamo una sfilata sposa molto evocativa, tutto simbolico, affinché appunto i giovani siano sensibilizzati in questo tema, molto, molto scottante e molto importante. Testimonianze anche da parte della madre della piccola Laura, uccisa proprio dal padre, e da Giuseppe Valenti, che è il padre della ragazza uccisa 5 anni fa dal suo fidanzato. In questo evento noi praticamente faremo una sorta di esibizione che riguarda appunto le tecniche di autodifesa, in particolar modo del Krav Maga, che è un sistema di antiaggressione abbastanza impiantato nel mondo, anche civile, anche se deriva dal mondo militare. Questo perché? Perché andiamo, diciamo, a cercare di risvegliare un pochino anche il lato crudo di quello che sarebbero gli atti di violenza, perché in un certo modo, prima ancora di quello che è l'atto di denuncia o l'atto di saperne parlare, in quel momento ci siamo solo noi. E quindi se troviamo un sistema giusto ed efficace, concreto e spicciolo, che benvenga, perché salviamo la nostra pelle. E questo è il miglior, più grande messaggio che in quel momento possiamo fare a quello che sono le donne, ma anche a quello che potremmo fare nei confronti dell'uomo. Così, in un certo senso, come pensiero, diciamo, iniziamo a cambiare qualcosa. Noi come amministrazione non potremmo non considerare e non accogliere la richiesta appunto dell'Elisabetta Cannuli, delle associazioni Rinascendo e delle associazioni Insieme per la Vita. Quindi Mare Grazia Felicioli, cui va un saluto caloroso, e anche a Angelo Leonardi, per l'impegno profuso. Ci saranno anche altre associazioni che parteciperanno, attivandosi, come Mariella Sinatra, ma ci sarà un momento anche di poesia. Per cui noi, come assessorato allo sport e allo spettacolo, andiamo a coniugare due momenti per un tema fondamentale scottante, quello è appunto quello della violenza sulle donne. Un tema su cui ci si deve concentrare e si deve fare anche un momento di chiarezza rispetto a quelle che sono le questioni che vengono affrontate nelle famiglie. Sarebbe opportuno anche che gli uomini partecipassero, perché il problema non è solo delle donne, ma anche degli uomini. E adesso parliamo di viabilità, scervamento, rifacimento del manto stradale, pulizia dai rifiuti. Sono questi gli interventi che la Publi Servizi si appresta ad effettuare in alcune strade provinciali del territorio. Oggi sopra luogo con l'assessore Luigi Gulisano sulla Paternò Ragallo. Scervamento, pulizia dai rifiuti, sistemazione del manto stradale. Sono tanti e diversi gli interventi attesi per le strade provinciali che cinturano il territorio paternese a cavallo con le città di Paternò, Belpasso e Ragalna. Si comincerà da Via Mongibello, la Paternò Ragalna, per la quale è stata prevista un'attività di scervamento. E questa mattina sopra luogo dell'assessore Luigi Gulisano, del consigliere comunale di Ragalna, Salvo Di Caro, e della responsabile viabilità della Publi Servizi, Luigi Platania. C'eravamo presi un impegno forte di mettere in sicurezza, dopo i fatti che ci sono stati negli ultimi periodi, la strada Via Mongibello, la nuova strada Paternò Ragalna. Oggi abbiamo fatto un sopra luogo e per questo ringrazio il direttore tecnico Luigi Platania, dove verrà fatto l'intervento di scervamento per tutto il tratto interessato dalla prima rotonda dell'uscita di Ragalna fino alla prima rotonda che noi abbiamo qua all'ingresso di Paternò. Non verrà fatto solo l'intervento di scervamento, verrà fatto anche un intervento di ripristino della segnaletica che è mancante. Nello stesso tempo abbiamo deciso di, concordato, di fare un altro intervento sulla vecchia strada Ragalna Paternò che è l'SP 57. Verrà anche scervata, nello stesso tempo verrà ripulita da tutti i rifiuti che ci sono. Ci sono altri interventi che abbiamo programmato con la Pubblici Servizi, in esempio abbiamo richiesto fortemente la derattizzazione e la pulizia delle aree verde in tutte le scuole provinciali, abbiamo fatto le richieste che loro ottemperanno in tempi brevissimi, questa era una risposta che volevamo dare. Poi per quanto riguarda invece il mando stradale si stanno facendo alcuni interventi sempre con la Pubblici Servizi, in esempio si sta iniziando dall'SP 229, che è in territorio di Belpasso, fino a finire nei nostri territori che sono SP 15 e SP 77. Questa amministrazione è stata sempre attenta nei problemi che ci sono, nel risolvere questi problemi. Le nostre priorità erano quelle di mettere in sicurezza un'arteria principale come la Paternò Ragalna e finalmente ci siamo riusciti. È un intervento importante questo sulla Paternò Ragalna, è un'arteria stradale percorsa ogni giorno da migliaia di autoveicoli. Sì, è un intervento importantissimo, infatti d'accordo con il direttore della Pubblici Servizi, il reparto manutenzione, Luigi Platania, ci siamo messi in contatto e ci ha dato la piena disponibilità nello scerbare la strada, la Paternò Ragalna e anche la vecchia strada che va da Paternò a Ragalna. Oltre allo scerbamento sta facendo anche la segnaletica stradale orizzontale, questa verrà fatta in un secondo tempo. Ovviamente la buona politica sta anche in questo, un buon amministratore si distingue in questo. ovviamente il Comune non può né intervenire né reperire le somme e quindi deve ovviamente giornalmente recarsi negli enti sovrastanti. In questo caso la provincia ci siamo diretti verso la città metropolitana di Catania con la partecipata che è la Pubblici Servizi, di cui dobbiamo sempre ringraziare che sono attenti a darci le risposte e a intervenire sul territorio. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10%. Per un totale chiave in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta, proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it E rieccoci in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Oggi ricorre la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per ricordare la storica approvazione dell'Assemblea Generale del 20 novembre del 1989. Un'occasione per riflettere se realmente i diritti fondamentali scritti sulla carta siano diventati realtà in tutte le parti del mondo. E questa mattina il Chivanis di Paternò insieme ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia e ai ragazzi delle classi quarte e quinte della primaria dell'istituto comprensivo Giovan Battista Nicolosi hanno organizzato un momento al quale ha preso parte anche l'assessore del comune di Paternò, Rosanna Natoli. Taglio del nastro questa mattina all'ex macello di Paternò per la mostra dell'artigianato organizzata dall'associazione Enosis in programma fino a lunedì prossimo. Ex macello di Paternò parte oggi la mostra dell'artigianato organizzata dall'associazione Enosis in collaborazione con la Proloco di Paternò, la compagnia della Saraceno e l'associazione Cantastorie Busac. Saranno giorni intensi, sei giorni tutti da vivere per ammirare gli artigiani al lavoro ma anche per riscoprire il museo della civiltà contadina che è proprio qui a sede. Sarà proprio l'occasione per assistere anche a delle rappresentazioni offerte dall'associazione Busac e dalla compagnia della Saraceno. Momenti quindi tutti da vivere che si legano anche alle tradizioni del posto. Questa mattina c'erano in visita anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Don Milani. Al via questa mattina con l'inaugurazione di questa mostra a mercato, una importante vetrina per l'artigianato locale. Sì, oggi inizia l'inaugurazione della grande festa dell'artigianato, una grande manifestazione che inizia oggi per finire il 25 novembre, quindi saranno sei giorni intensi di artigianato, di arte, di cultura. Una vetrina importante dove diversi artigiani metteranno in mostra il loro modo di intendere la cultura attraverso l'arte manuale. Una manifestazione che prevede vari scenari, per esempio ci saranno diversi momenti rappresentati anche dall'opera dei pupi, della compagnia del Saraceno, ci saranno i cantastorie dell'associazione Busacca, ci sarà poi la collaborazione anche della Proloco che garantirà ai visitatori degli itinerari da visitare, quindi dei siti da visitare della nostra Paternò. E poi ci sarà anche una bellissima mostra fotografica che metterà attraverso l'arte delle immagini in risalto quei luoghi, quei posti che magari noi stessi paternesi non conosciamo. E quindi sarà una bellissima occasione per trovare un po' di tutto. E come al solito io invito la cittadinanza, ma non solo, anche chi si trova nei paesi limitrofi a venirci a trovare e godere appunto di questa grandissima opportunità. Un importante evento e non a caso l'avete voluto organizzare qui all'interno del Museo della Civiltà Contadina. Sì perché questo comunque è un edificio storico, quindi noi abbiamo fatto anche questa scelta proprio perché vogliamo dare valore a quegli edifici che anche all'interno del paese vengono messi un po' da parte, mentre così gli diamo anche un certo valore artistico portando delle maestranze che qui nel nostro paese magari vengono poco apprezzate perché magari non le conoscono. E invece così diamo la possibilità soprattutto ai ragazzi delle scuole, soprattutto a quelli che hanno la voglia di comprendere che il lavoro di un artigiano è veramente il lavoro di un artista, di colui che è, crea dal nulla degli oggetti meravigliosi e sono veramente da promuovere, da valorizzare. Piero Montalto, vicepresidente di Enosis, questa manifestazione ha anche un valore importante, un altro valore per te importante perché ti sarà dato un importante riconoscimento. Sì, vero. Sabato 23 avrò un riconoscimento da parte del card regionale che mi sarà assegnato un dipartimento per quanto riguarda le politiche familiare e sociale e che mi occuperò comunque prevalentemente per la disabilità, quindi promuovere questi ragazzi che comunque nessuno ci ha mai pensato o perlomeno in modo molto marginale. Assessore Mannino, questa mattina questa importante inaugurazione è in un luogo simbolo per Paternò? Sì, ritengo che questo è un monito per quello che dovrà essere una struttura importante come l'ex macello di Paternò, infatti l'associazione Enosis per il secondo anno realizza all'interno di questa struttura una mostra dell'artigianato valorizzando anche quelle che sono le tradizioni culturali della nostra città e della nostra terra come i pupi siciliani e i cantastorie. Ed è questo sintomatico di quello che dovrà essere, secondo l'idea della nostra amministrazione, questa struttura, ovvero un hub culturale, un incubatrice di idee culturali e soprattutto di creazione e formazione di professionalità che guardano al passato con una prospettiva però futuristica e quindi una rivisitazione e una creazione di professionalità quale quella della lavorazione della pietra lavica, la lavorazione del ferro battuto, tutte opere di artigianato che provengono dalla nostra tradizione ma che possono rappresentare anche una crescita professionale. Parlando proprio dei lavori, quando partiranno? È stata già pubblicata la gara, credo che siano già scaduti termini di presentazione della richiesta di esecuzione dei lavori dalla parte delle ditte partecipanti quindi siamo nella fase di aggiudicazione della gara. Ritengo che nel giro di qualche mese i lavori possano avere inizio in questa struttura. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani a Catania per conferire una medaglia d'oro al merito civile alla bandiera dei Vigili del Fuoco in occasione della ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della nascita del Corpo Nazionale. La cerimonia si terrà alle 11 presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e sarà dedicata ai tre Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Alessandria che hanno perso la vita nella terribile esplosione avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre scorsi in provincia di Alessandria ovvero Matteo Gastaldo, Marco Tricchess e Antonio Candido. Il Governo regionale ha stanziato 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri siciliani, a beneficiarne anche quelli di Adrano e Biancavilla. Il mio Governo sta dando vita sul territorio a un investimento in cultura senza precedenti a dirlo è il Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci il cui Governo ha stanziato oltre 32 milioni di euro per riqualificare 161 teatri siciliani. I soldi saranno erogati dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e serviranno per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica oltre alla modernizzazione delle strutture esistenti e l'apertura al pubblico di nuovi spazi e di sale chiuse dunque un massiccio investimento quello di Musumeci sulla cultura l'idea del Governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di ammodernamento delle strutture teatrali a beneficiare delle somme tutte le province siciliane con Catania che porta a casa 6,2 milioni di euro per riqualificare 34 teatri della provincia e tra questi anche quello di Adrano al Vincenzo Bellini sono stati destinati 224.529 euro sui 291.000 di contributi richiesti dunque per essere precisi quasi l'80% della somma richiesta così come per tutti gli altri teatri comunali il 62% della somma richiesta invece è andata per i soggetti privati a beneficiare dei fondi anche il teatro comunale La Fenice di Biancavilla con 231.000 euro stessa cifra anche per il teatro cine comunale di Bronte 180.000 euro sono stati destinati al teatro Nino Martoio di Belpasso e 189.000 euro allo stabile di Catania i teatri siciliani pubblici e privati, dice ancora il governatore Musumeci costituiscono una mappa identitaria dell'isola e sono depositari della memoria e del carattere del territorio inoltre, conclude Musumeci, questo piano per i teatri serve a dare energia e attenzione al ruolo fondamentale che riveste il capitale umano e intellettuale dei luoghi della cultura ovvero registi, attori, musicisti, scrittori, scenografi e costumisti e in chiusura parliamo di solidarietà e cultura il teatro giovane Turi Pappalardo in collaborazione con il Comune di Belpasso ha curato l'organizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo Il Marchese di Ruvolito che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 20.30 e domenica 24 novembre alle ore 18.30 presso il teatro Nino Martoglio di Belpasso associata a questo spettacolo un'importante iniziativa di solidarietà dal titolo 100 pupi per 100 bambini tra centro sculture Ancora una volta il connubio Solidarietà Cultura si rivela una scelta vincente e produttiva così come dimostrato dal teatro giovane Turi Pappalardo che in collaborazione con il Comune di Belpasso ha realizzato uno spettacolo teatrale dal titolo Il Marchese di Ruvolito che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 20.30 e domenica 24 novembre alle ore 18.30 presso il teatro Nino Martoglio di Belpasso A questa rappresentazione teatrale grazie alla sinergia con il Comune di Belpasso si associa un'importante iniziativa di solidarietà dal titolo 100 pupi per 100 bambini tra 100 sculture Anche quest'anno si sposiamo un progetto importante del teatro giovane Turi Pappalardo un nuovo spettacolo l'anno scorso abbiamo avuto un grande evento partecipatissimo dei belpassesi e in quell'occasione abbiamo ricevuto un dono per Belpasso che era il difibrillatore quest'anno c'è una nuova iniziativa 100 pupi per 100 piccoli belpassesi e quindi abbiamo sposato immediatamente questa opportunità sabato e domenica al teatro Nino Martoglio a Belpasso avremo questa opportunità oltre ad assistere ad uno spettacolo di alti livelli potremo mettere insieme la solidarietà e quello è importante pure sicuramente quest'anno è un'iniziativa importante immediatamente con il sindaco Daniele Motta il vice sindaco interaggiunta quando abbiamo avuto questa proposta di spettacolo non potevamo fare altro che dire sì abbiamo detto sì al teatro giovane Turi Pappalardo per il grande livello di spettacolo che propone ma anche per l'iniziativa lodevole in ambito di solidarietà quest'anno sempre più emozionati arriviamo a Belpasso, la città di Belpasso e ci arriviamo con una compagine anche nuova e qua devo obbligatoriamente ringraziare il nostro partner Nino Condorelli che ha sposato la nostra iniziativa oltretutto ringrazio prima di tutto il comune di Belpasso l'intera amministrazione, il sindaco, gli assessori che hanno accolto il nostro invito a fare questo evento di solidarietà a Belpasso e ringrazio anche la video bank di Lino Chiechio e Maria Guardia Pappalardo che sono stati molto disponibili e sensibili al progetto il Marchese di Ruvolito è un lavoro di Nino Martoglio che verrà dato al teatro Nino Martoglio naturalmente abbiamo dovuto fare un adattamento teatrale e la regia curata da me da Biagio Di Caro che prevede la focalizzazione di determinate sfaccettature rendendo questo lavoro adatto sia ad un pubblico adulto sia a un pubblico di più piccoli perché i bambini devono cominciare a crescere cercando di amare il teatro la nostra finalità, l'obiettivo finale che è quello di legare perché non voglio anticipare niente su quella che è la trama del Marchese di Ruvolito gli spettatori lo scopriranno quella sera ma l'obiettivo principale che noi ci proponiamo oltre a rendere, vedere la felicità dei bambini che ricevono un bupo siciliano questo omaggio del bupo siciliano per noi rappresenta la consegna di un testimone culturale perché desideriamo sì la gioia vedere la gioia dei bambini nell'afferrare un bupo come se fosse un giocattolo ma desideriamo che fosse tramandata ai bambini quella che è una delle nostre più antiche tradizioni culturali tipiche della Sicilia Si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale appuntamento come sempre alla prossima edizione quella di domani alle ore 13.30 a tutti voi una buona serata a tutti voi una buona serata a tutti voi una buona serata